17-4, una scena particolare misteriosa e nella terza quarta, la gente ha deciso il top game in mostof between la CESC e la FC Barcelona Regal. Nel 44-46, Juan Carlos Navarro iniziò il festivale con una tripla, followed by Razenlob, con la stessa tipologia. Navarro, di nuovo, curva di scorrere il 8-0. Poi Marcellinio Huertas è venuto per finire il 10-0 run. Dopo il 2-pointer da Vladimir Mitzel, un'altra tripla di Navarro era ancora il 13-2. Sonny Wims ha cercato di rispondere con la scuola, ma il 4-4 dalla linea Huertas è finito la quarter e probabilmente il game. Un'attività terribile sul luogo del vice-champion ha ottenuto la nostra night in hotball.